Dare prima di ricevere, questo è il valore che Centri e a società del gruppo Estra ha voluto trasmettere ai propri dipendenti invitandoli a donare il sangue in orario di lavoro. Si tratta di un'iniziativa davvero meritevole ed unica nel suo genere. Non era mai avvenuto prima, almeno in Toscana, che un'impresa si facesse promotrice di una campagna di donazione sangue a proprie spese. La donazione sangue è un gesto di grande generosità verso il prossimo, anche verso persone che non conosciamo ovviamente, ma che sono bisognose. L'ambiente di lavoro può essere l'ambiente adatto anche per coinvolgere più persone e fino a quel momento non hanno avuto occasione di approfondire questo tema e di capire effettivamente il bene che possano fare con un gesto poi del tutto, non solo gratuito, ma semplice, molto semplice. Nei giorni scorsi i dipendenti donatori sono stati accolti nella sede di Prato per il meritato riconoscimento. Una maglia di Centria ha voluto rimarcarne il gesto di solidarietà compiuto da ciascuno di loro. Una campagna di solidarietà senza precedenti che è stata accolta con entusiasmo e orgoglio. Tante le adesioni pervenute da tutte le sedi operative di Centria e si parla già di replicarla e di estenderla a tutte le società del gruppo Estra.